La nostra protesta contro l'amministrazione comunale capitolina contro il sindaco Gianni Alemanno per il trasferimento periodico dei vigili urbani a un municipio all'altro, oggi abbiamo scelto la sede di Sky, Sky su via Salaria, dove praticamente abbiamo avuto anche dei problemi con la sicurezza, dove addirittura volevano che non facessero riprese a Sky, mi sembra assurdo perché siamo sul suolo pubblico e praticamente passando uno, chiunque può fare riprese, le scritte sono pubbliche se non sbaglio, non è che stiamo parlando di una proprietà privata, stiamo facendo delle riprese dal suolo pubblico, perciò la scritta di Sky, Sky è pubblicizzata in tutti i posti, mi sembra veramente una cosa fuori luogo. Comunque la nostra protesta continua, ma questa è una sede istituzionale, una sede soprattutto di informazione istituzionale, noi la consideriamo così, perché peraltro è un'informazione libera quella di Sky G24, perciò continuiamo con la nostra protesta contro il silenzio del sindaco Gianni Alemanno e della giunta capitolina, che sta assolutamente opponendo silenzio contro la nostra proposta, contro la nostra proposta di trasferimento periodico intermunicipale dal municipio all'altro, appunto intermunicipale da parte dei vicini urbani e dipendenti degli uffici tecnici comunali, per garantire trasparenza e imparzialità nell'esplodamento delle funzioni come è garantito l'articolo 97 della Costituzione italiana. Noi facciamo questo perché i 30.000 cittadini ci hanno apposto una firma e una petizione, facciamo questo perché vogliamo garantire l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, vogliamo garantire le istituzioni dalla illegalità che spesso alcune mele marce, alcune cellule deviate che sono introdotte appunto in questi apparati istituzionali possano in qualche modo inficiare tutto l'apparato stesso, l'apparato stesso che è composto dalla grande maggioranza appunto dei dipendenti e dei lavoratori che svolgono il loro lavoro con abnegazione e senso del dovere, abnegazione e senso del dovere e perciò poche mele marce non possono essere in discussione questo tipo di servizio e di lavoro che tra l'altro ha il beneficio di tutta la collettività. Perciò il sindaco le manno dopo aver demandato la cosa alla questione all'assessore personale Enrico Cavallari e dopo che questo assessore Enrico Cavallari non ci sta rispondendo deve riprendere in mano questa questione e avviare un caso di trattative dopo tra l'altro aver incassato vari giudizi positivi e di condivisibilità del problema da parte di alcuni presidenti di municipio, da parte del comando del comandante generale dei vigili urbani Angelo Giuliani, del vice comandante Vieco Porta e di alcuni comandanti appunto dei vari municipi, dei gruppi municipali, dei vigili urbani. Bene, a questo punto continueremo, perciò garantiamo trasparenza e legalità nel territorio di Roma. Le manno ci venga incontro su questa nostra iniziativa, abbiamo un tavolo di concertazione, trasferimenti periodici ogni tre anni, intermunicipali da municita all'altro, punto dei vigili urbani e degli uffici tecnici comunali, viva la legalità, viva la giustizia, a basso la corruzione e la concussione e noi con la corruzione e la concussione combattiamo contro i comportamenti omissivi e illeciti di alcune mele marce che è giusto sradicare per garantire l'immagine di tutto l'apparato istituzionale del comune di Roma. Grazie a tutti.